...fermare contro una Fiorentina che apparsa superiore, almeno per quello che abbiamo visto noi in tv. Prego, Enzo Baldini, un minuto a te. Maran, la Fiorentina è una bella squadra, ma a farvi male è sempre il solito. Io, Vetici, l'anno scorso qui una doppietta, oggi è quello che ha rotto l'equilibrio. È stato bravo nell'occasione del gol, anche perché è riuscito a finalizzare da fuori area, non era facile. Dispiace perché comunque non avevamo riscatto molto fino a quel momento, anche se noi probabilmente potevamo essere un po' più propositivi, nel senso che abbiamo sbagliato molto l'uscita, la prima palla in uscita, e questo ci ha fatto alzare poco, ci ha fatto innescare poco i nostri attaccanti. E questo Maran ci ha messo un po' nelle condizioni di correre presso loro. Però, ripeto, abbiamo perso contro una signora squadra e dobbiamo subito ripartire, rimbloccarci le maniche e cercare di cominciare a far bene già la prossima settimana. Domenica ha affrontato un'altra gran bella squadra, il Napoli. Sì, sarà un impegno difficile, però, ripeto, è importante anche imparare dagli errori, imparare a saper crescere ogni settimana. È una squadra che deve essere sempre più positiva e per riuscire a farlo bisogna cercare di sbagliare poco. Abbiamo commesso qualche errore in più, era anche la prima volta che giocavamo di pomeriggio e magari trovareci a rincorrere con il caldo non è stato semplice. Però, insomma, io credo che la squadra dall'inizio stia facendo quello che deve fare, cercando di mettere in apprensione tutti quanti, cercando di mostrare sempre personalità. Oggi, Mari, abbiamo commesso qualche errore e questo ha complicato un po' tutto. Grazie, grazie a Marano. L'ascoltava con molta attenzione.